Sono davvero lieto di darvi il benvenuto nella sala giunta del Comune di Napoli. Siamo davvero onorati di ricevere una delegazione di così alto livello, considerati i rapporti davvero di amicizia che ci sono tra la città di Napoli e la Repubblica Popolare Cinese. L'obiettivo di questo incontro è rendere ancora più concreti e efficaci i rapporti tra la nostra città e la vostra città e la vostra provincia. Cultura, turismo, commercio, tecnologia, scienze, sviluppo sostenibile urbano e beni comuni sono i settori di interesse per il patto di collaborazione firmato con la città di Shaoxing nella Repubblica Popolare Cinese. Saranno quindi mantenuti i contatti regolari per facilitare la consultazione sugli scambi e la cooperazione, oltre che su altre questioni di interesse comune, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti dei due paesi. Sì, questa è una relazione importante perché parliamo di una zona della Cina molto rilevante sul piano economico-commerciale, in particolare per il tessile, ma loro sono molto interessati anche alla proiezione turistica di Napoli, alla cultura e all'unione sempre più forte tra i nostri popoli. Anche dal discorso del segretario della provincia cinese si sottolineava di come Napoli oggi viene percepita forte anche nella Repubblica Popolare Cinese. Quindi evidentemente è una città che fa parlare di sé per cose positive, per capacità di investimenti, ma anche per capacità della nostra impresa di farsi conoscere in Cina con le esportazioni.